Ah, grazie. E lei non si resta più la donna. Va bene. Capito? Si vergogni. Certe inclinazioni è meglio nasconderle. Ma quale inclinazioni? Sire, sì, non insistere. Se il commissario dice così lo può dire perché c'è l'occhio clinico. E così è. Ma quale occhio clinico? Silenzio. Qua c'è stato un equivoco che bisogna chiarire. Il solo equivoco è il suo travestimento. Va bene, per causa tua. Devo passare pure per quello che non sono. Perché sei il primo. Beh, basta. Andate bene. Va bene. Ci fate ripensare. Andiamo. Andiamo, andiamo. Quello si deve cominciare. Quello si ripensare. Ancora? Andiamo. E vatta vestire da uomo che così fa. Pelufo. Mi chiamate. Un momento.